Buongiorno a tutti, siamo arrivati al mese di maggio e in qualche modo andiamo a completare quella descrizione, quella carrellata di avvenimenti che nella prima vera del 1942, dalle parole di Ugo Cavallero, ci portano, in qualche modo ci traghettano verso la realtà dell'estate, le battaglie di Alamein, tutto quello che accade, soprattutto nel Mediterraneo, una realtà particolarmente complessa, con la spina nel fianco di Malta ancora ben presente, ben attiva, seppur oggetto di numerosi attacchi aerei da parte dell'asse, con una situazione che si fa sempre più complessa, perché questo attacco su Malta che viene richiesto sempre come una sorta di ciclicamente, non si è fatto fino adesso e si cerca in qualche modo di trovare una quadra, ma sappiamo bene come la realtà sarà completamente diversa, soggetta alla dispersione delle energie, l'Italia che in due anni di guerra si è dedicata all'Africa settentrionale, all'Africa orientale, ai Balcani, alla Russia, ma si è occupata anche di un impegno, seppur limitato, con il corpo aeritaliano nella battaglia d'Inghilterra, con attività navali anche a livello oceanico, quindi con tutta una serie di impegni che in qualche modo hanno probabilmente distolto l'attenzione da quello che doveva essere il fronte principale, ossia quello mediterraneo, quello che in qualche modo aveva la sua essenza, la sua peculiarità, la sua consistenza maggiore nel suo impegno contro l'Inghilterra, che appunto a partire dalla fine del giugno del 40 rappresentava l'unica contendente della realtà appunto del giardino di casa dell'Italia. Cavallero che torna dalla Germania, abbiamo visto qualche giorno fa il resoconto dei suoi incontri con gli alti vertici della Wehrmacht, in qualche modo per avere anche uno spiraglio, un tentativo di una boccata di fiducia nella realtà anche interforza internazionale dell'alleanza Roma-Berlino, ma in qualche modo abbiamo sempre profonde difficoltà, ma vediamo come egli espone la cosa. 2 maggio riceve il marescello Kessering con i generali Forrintelem e Ramke, sono presenti al colloquio i generali Magli e Gandin. Ramke comunica che presso la divisione paragodisti italiana sono già addestrati 7.600 uomini, altri 800 lo saranno a fine maggio. I tempi possono essere accelerati perché gli uomini hanno già una buona preparazione fisica. Propone di formare con questi elementi tre reggimenti paragodisti su tre battaglioni ciascuno. E questo è un elemento importante nell'analisi di come la forza paragodista italiana aviotrasportata sia di atterraggio che di lancio era sicuramente all'avanguardia, era sicuramente ben progredita rispetto agli standard generali, però questo era sempre inficiato da una carenza infrastrutturale, di dottrina, di capacità interforze, di armamenti, di sostentamento di varia natura. Quindi capiamo bene come questa realtà, sappiamo come i paragodisti italiani sarebbero stati poi mandati come sostanzialmente l'incalzi di fanteria a Terramene, quindi questo è un grandissimo cruccio che l'ha anche l'apporto, la preparazione, il valore militare, la capacità anche di determinare determinate sorti belli che sono state sempre un po' così sottovalutate, trascurate e diciamo sottousate. In una riunione cui partecipano i capi, i sottocapi di Stato Maggiore dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica, quindi la crema della crema, accenno ai colloqui avuti in Germania ed esaminano la situazione. Vediamo cosa riporta Cavallero. Si prevede la possibilità che il secondo fronte possa essere fatto dagli inglesi in Italia, pensate un po'. Comunque è previsto anche sulle coste della Francia nel qual caso ai primi sospetti i tedeschi prevedono l'intera occupazione. Diciamo che è in previsione anche l'idea che siamo sempre nell'estate della primavera del 1942, quindi sostanzialmente c'è una parte medionale. Sappiamo che la Repubblica di Vichy è ancora di fatto autonoma, se possiamo dire questo, però diciamo che ha una sua effettività e quindi la previsione della Germania è quella di annettersi tutto per avere un controllo maggiore di questo eventuale secondo fronte occidentale. Ma non hanno molta truppa, 45 divisioni che giudicano non del tutto sufficienti e contano sulle forze italiane. Sappiamo che da lì a fine anno sarebbe stata concretata appunto l'occupazione anche della Repubblica di Vichy con un rapporto italiano, con degli elementi avversi. Ve ne ho parlato anche in occasione del libro che ho scritto su il generale Maurizio Lazio dei Castiglioni che appunto in qualche modo affronta il tema dell'occupazione della zona della Provenza, della Francia milionale. L'Africa è considerata sempre più un teatro d'operazione essenziale. Sì, questo nei fatti, poi, scusate, a parole, nei fatti, non tanto. Circa lo svolgimento del lavoro per Malta, rilevo che il segreto è molto difficile. Non si può parlare di Corsica, si parlerà invece di Inghilterra e Gibraltar. Per dare un senso di, diciamo, di desviare un po' i sospetti. Confugé esamino l'opportunità di istituire una scuola parautista nei pressi del campo di Viterbo. Quindi, diciamo, si cerca anche di affrontare dei temi molto concreti. 3 maggio, ricevo ago, argomenti, utilizzazione e rottami da parte del ministro della guerra. Esprimo il parere che il Fabri Guerra dovrebbe senz'altro aderire. Quindi si cerca in qualche modo di raschiare il barile di qualsiasi cosa. Mi rego a conferire col Duce. Gli sottopongo il seguente appunto. E vediamo un po' qual è il tema. Caldo, che il capo di San Maggiore Generale rivolge al capo del governo. Virgolette. Duce, nel leggere la provvisoria relazione del generale Maravigna all'oggetto Ufficio Collegamento Forze Armate Africa Settentrionale, trovo il seguente accenno alla mia persona laddove si parla dell'impresa Faravelli. Faravelli, adesso andremo a capire chi è, era un imprenditore che aveva dei contatti con Gambara. Vediamo un po' come si esplica. Nella lettera di presentazione del Faravelli al vice governatore dei Rubens, il generale Gambara aggiunge, virgolette, per tua norma il Faravelli è persona ben nota e accetta al capo di Stato Maggiore Generale che oggi lo ha ricevuto e ha approvato in linea di massima gli impegni che stiamo per prendere con lui. Qui si conclude l'appunto di Gambara. Torno a parlare Cavallero. A riguardo, riferisco quanto segue. Durante la mia visita in Libia, circa metà agosto lo scorso anno, il generale Gambara mi parlò a Cirene della sua idea di affidare a una grande organizzazione privata il compio di organizzare ed eseguire i trasporti in Cirenaica come potente ausilio all'intendenza. Cavallero sappiamo che era stato un campione del binomio pubblico-privato, quindi in qualche modo dovrebbe consentire essere favorevole a una cosa del genere. Torno a parlare Cavallero. A suo dire, l'impresa doveva, secondo Gambara, doveva impiantare anche officine di riparazione per assicurare in modo assoluto l'efficienza del servizio. Tale impresa doveva essere la Faravelli e mi disse il Gambara che questa impresa aveva fatto magnifiche prove in Spagna. Rispose al Gambara che non ero contrario a questo concetto ma che conosceva il Faravelli soltanto di vista, avendolo incontrato una sola volta a Rivoli dopo le manovre del 1937, in occasione dell'esibizione, da lui fatta, del noto autotreno comando destinato al generale Branco. Il Gambara mi chiese allora di presentarmi il Faravelli e la presentazione avvenne all'uscita dal suo ufficio nel vestibolo dell'albergo di Cirene che ospitava il Comando Superiore Africa Settentrionale Italiana. Il colloquio si limitò a poche battute. Alla presentazione fatta dal Genegambara risposi che ricordavo l'incontro di Rivoli e che era ben accetto da noi chiunque venisse con noi a collaborare. A questo si limitò rigorosamente la mia approvazione. Dopo il mio ritorno dall'Africa pervenne qui un telegramma del Genegambara nel quale era accennato al progetto Faravelli ed era fatto accenno alla mia approvazione. Ritenne come ovvio trattarsi dell'approvazione di massima nei limiti che ho detto. Fui messo invece sull'avviso più tardi allorché mi venne in mano casualmente la fotografia della lettera che il Genegambara aveva indirizzata al Derubeis, lettera che è citata nella relazione Maravigna e che ho stesso rimisi al generale Squero. Interessante che ci sia una lettera prima dell'inchiesta formale. Noi diciamo che è interessante come lo stesso Cavallero ne abbia cognizione. Il dubbio che così mi ero solto sulla correttezza del Genegambara insieme con le notizie avute da Squero circa l'assurdità del contratto che il Genegambara aveva tentato di stipulare col Faravelli fu una delle ragioni che fece più volte considerare l'opportunità del ritiro di Genegambara dalla Libia. Aggiungo che in occasione della mia penultima visina in Libia, 22-26 gennaio corrente anno, il Genegambara non si peritò di chiedere una mia approvazione per l'ulteriore consegna al Faravelli di 50 autocarri militari riparabili. Autorizzazione che non diedi. Si tratta di un subdolo tentativo che il Genegambara ha fatto di associare alla propria grave responsabilità quella del capo di Stato Maggiore generale. Non se ne mandano a dire. Qui finisce l'appunto che Cavallero rivolge al Duce. Ago mi manifesta la preoccupazione che in estate manchino i vagoni per il trasporto di carbone date l'operazione sul fronte russo. E che non è cosa da poco. Con lui e con il Genere Favagross sottolineo la necessità di una difesa contraerea potenziata al massimo per il mio 143. Sarà questo il problema più grave per il prossimo anno di guerra. Il problema più grave. Sappiamo che ce ne saranno altri. Grave deficienza di munizione da 15. Essa deriva dal fatto che per la fabbricazione dei bossoli manca il carbone necessario a sottoporre l'acciaio al trattamento tecnico speciale. E anche qui non è cosa da poco. Passiamo al 5 maggio. Consegno a Bastico le direttive del Comando Supremo per le operazioni in marmarica. Le direttive di questo Comando Supremo in data 23 marzo prevedono la convenienza che prima dell'estate venga eseguita da parte dell'armata corazzata un'azione in forze contro lo schieramento delle forze mobili e avversarie per impedire ad esse di consolidarsi sulle posizioni attuali. La miglior difesa è l'attacco. Questo Comando Supremo ha preso conoscenza del progetto che il comandante dell'armata corazzata in armonia con le predette direttive vi ho sottoposto. Tenuto presente il grado di ricostituzione raggiunto dai corpi d'armata DAC e ventesimo e le deficienze tuttora esistenti nelle divisioni di fanteria italiana che fanno parte dei corpi d'armata decimo e ventunesimo, specie per quanto riguarda gli automezzi, questo Comando Supremo precisa quanto segue. Punto primo. Obiettivo. Battere le forze mobili e avversarie schierate ad occidente di Tobruk in caso di esito favorevole attacco speditivo contro Tobruk. Cercare di aggirare Tobruk per prenderla meglio. La presa di Tobruk è condizione categorica per lo spostamento in avanti del nostro schieramento. Verificandosi tale condizione, lo schieramento sarà portato sulla linea Solum-Alfaia-Sidi-Omar, linea che la massa dell'armata corazzata non dovrà oltrepassare, sappiamo che da lì a un mese e mezzo, se Tobruk verrà presa ma poi tutto altro si farà, qualora l'occupazione di Tobruk non riuscisse lo schieramento da assumere dopo la battaglia non dovrà oltrepassare la linea Ainel-Ghazala. Punto secondo. Forze e mezzi per l'operazione. Sotto punto primo. Le unità a disposizione del comando armata corazzata. Punto secondo. Le forze aeree italiane e germaniche dislocate in Cirenaica rinforzate, come sarà comunicato a parte. Punto terzo. Alcuni mezzi navali leggeri che saranno in seguito precisati, essendo esclusa la partecipazione di forze navali di superficie. Torniamo al punto terzo superiore. Epoca dell'operazione. Verso la fine di maggio, dopo che saranno raggiunti in Cirenaica i mezzi e i rifornimenti richiesti per la cui affluenza tempestiva il comando supremo si adopererà con ogni mezzo. Punto quarto. Tempo disponibile per l'operazione. Le operazioni non potranno protrarsi oltre il 20 giugno, poiché per tale epoca dovranno essere ritirate le unità aeree navali di rinforzo e anche una parte delle forze aeree attualmente presenti in Cirenaica. Tutte queste unità, essendo per la data suddetta, destinate ad altro impiego, una ripresa dell'operazione deve essere prevista per l'autunno. Firmato Cavallero. Invece sappiamo che Rommel già avanza a tutto spiano e i primi di luglio arriverà addirittura ad Alamein per la prima battaglia. Torna a parlare Cavallero in forma indiretta sui progetti del genere Rommel per l'operazione in Marmarica, con le quali prevede di attaccare con tutti i mezzi le forze mobile nemiche schierate dinanzi a Tobruk, batterle, occupare quindi Tobruk e procedere verso Bardia e Sollum. Mi riferisco alle direttive del Comando Supremo di Ramate in data 23 marzo. Le operazioni in Marmarica debbono compromettere la preparazione e l'esecuzione dell'operazione Cirenaica, essenziale per gli ulteriori sviluppi della guerra in Mediterraneo. Forse non devono, qua secondo me manca un non, perché se no detta così rema contro Cirenaica, infatti poi comprometteranno. Le mie direttive prescrivono in sostanza obiettivi concreti, evitando in ogni modo un eventuale schieramento per noi non favorevole e pongono un limite tassativo 20 giugno alla disponibilità dei rinforzi aerei che dovranno in tale data essere riportati in Sicilia. Sappiamo che di questo si farà tutto il contrario. Adesso si arriverà a Tobruk e avanti pure. 6 maggio, Corige, Bastio e Rommel visito ad El Feteia il Comando dell'Africa. C'è una nota, vediamo che cosa riferisce questa nota. C'è un virgolettato riferito a Churchill dalla Seconda Guerra Mondiale. Cavallero visiterà il fronte africano il 6 maggio per discutere dell'imminente attacco. Egli ritenne, al pari di noi a Londra, che la conquista di Tobruk fosse una condizione essenziale per l'ulteriore avanzata del gruppo in dell'asse. Se Tobruk non fosse stata presa, il limite dell'avanzata sarebbe stato rappresentato dal settore di Ain al-Ghazala o da posizioni anche più occidentali. Tutto doveva essere finito entro il 20 giugno, poiché parte delle forze aeree che dovevano essere impiegate in Siciliaica avrebbero poi dovuto essere tirate per operazioni su altri fronti. Dato che il porto di Bengali aveva ormai raggiunto una capacità di 2.000 tonnellate al giorno, le richieste di Rommel poterano essere soddisfatte. Non vi era però alcuna speranza di altri trasporti sia dalla Germania sia dall'Italia. Questa è una situazione di Churchill. Qui torniamo invece a citare. Cavallero ispeziono lo schieramento spingendomi sino all'estrema destra fra le truppe della divisione Brescia. Ottima impressione dello spito che anima gli uomini, malgrado i disagi e la stanchezza. Soddisfacente il funzionamento dei servizi, malgrado le difficoltà davvero immense che occorre superare. È sempre molto grave la deficienza degli automezzi, la lentezza e il logorio dei movimenti lungo le piste desertiche. In una riunione a Derna sono stati così precisati rinforzi aerei che verranno schierati in entro maggio per essere poi ritirati dal 20 giugno. 20 giugno è proprio una deadline che non si può superare. Aeronautica tedesca. Un gruppo e mezzo di Stuka. Un gruppo da caccia. Un gruppo di Messerschmitt. Un reparto CIA. Contraere immagino. Un gruppo paracodisti. Unità da precisare. Aeronautica italiana. Uno stormo Machi 202. Uno stormo CR42. Bombe alari. Compreso il gruppo già in formazione a Sorman. Eventualmente un terzo stormo. Un gruppo CR42. E un gruppo Stuka. Se sarà possibile assicurarne in tempo tempestivo recupero e riordinamento per la successiva operazione. Passiamo all'8 maggio. Ricevo il genere Magario. Circa la possibilità di sbarchi nemici in Sicilia. Egli esprime l'opinione che i tentativi di non grave entità possono essere fronteggiati dai comandi imposto. Se ne parlerà da lì a un anno e due mesi. Mi rego a conferire col Duce. Tra i vari argomenti gli sottopongo anche la situazione di Visconti Prasca. Riciccia. Per Visconti Prasca dispongo un'indagine sul modo con il quale è stata svolta la preparazione delle operazioni iniziali del 1940 in Albania. C'è una nota. L'indagine che lo stesso Visconti Prasca aveva sollecitato. Per mettere un po' di Pepe, la responsabilità è di Cavallero, di Soddu, di Ciano, di Roatta. Vabbè. Per il volume del dottor Missiroli sulle operazioni in Grecia do parere contrario. Telefono ad Ambrosio. Raggruppamento delle forze C3 in opportunità di costituire un'armata perché è prematuro. Direttiva. La preparazione deve essere presa alla mano personalmente da Vecchiarelli, del quale non escludo l'impiego. 9 maggio. Ricevo Ambrosio e Vecchiarelli. Per la preparazione della C3 do incarico al generale Vecchiarelli di tagliare tutti i tramiti non necessari di procedere alla realizzazione più speditiva. Ambrosio all'epoca era capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Il lustro a lui ed ad Ambrosio la prossima azione del generale Rommel che dispone ora di 450 cannoni e di 500 carri. 10 maggio. Presiedo la riunione per i trasporti. Stasera parte il grande convoglio da Napoli con rotta direttissima per Tripoli. È preceduto da quattro torpediniere con ecoconiometro. Il generale Weininger comunica che ieri sono arrivati 60 aerei a Malta, parecchi sono già distrutti, ma malgrado ciò il rinforzo è sensibile e quindi per gli attacchi occorre la scorta per la caccia. Ricevo Forintelen, mi comunica che il Führer mette a disposizione per la C3 la settima divisione aerea tedesca, paracaturisti, al completo. 12 carri T4 con nuovo armamento, alcuni carri inglesi, 20 carri armati russi da 43 e 52 tonnellate e un battaglione pionieri. C'è un'altra nota, vediamo un po' che... C'è un virgolettato dalle memorie di Kessering. L'attacco principale venne iniziato il 2 aprile 42. Il 10 maggio mi fu possibile con serra raggiunto l'obiettivo propostomi. Sarebbe stato facile impossessarsi dell'isola dopo i bombardamenti aerei, il non averlo fatto fu un gravissimo errore del comando idro tedesco che dovemmo scontare più tardi. Questa è l'affermazione di Kessering a proposito di Malta. E mi sembra che di ciccia ce n'è parecchia per poter in qualche modo chiudere in bellezza la nostra registrazione di oggi. Che mi sembra anche troppo carica, diciamo. E abbiamo un Gambara Gate, un Malta Gate, un Visconti Prasca Gate. In qualche modo abbiamo veramente di tutto e di più, ma poi a livello pratico. Ma di guerra, vera, combattente, guerreggiata, bah, oggi non pervenuto. Tutte chiacchiere e poca attività. Ce ne sarà nei mesi a seguire. Come al solito vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao. Ciao.